Silenzio, silenzio, silenzio Allora, il rinascimento è buono, è la cosa più importante oltre al papà e la mamma è la cosa più importante e quindi mia mamma, che nemmeno sempre da qualsiasi cosa pur siamo a giurare, diciamo, dobbiamo fare mamma, sempre però io credo che la persona che fa sempre saprifici e in tutti i sensi è sempre umano quindi il papà popolo pensiamo e non la vediamo, c'è una città, c'è una cosa c'ho fatto a te mamma, una canzone mia qui tutti la canto, mi piace a tutti ora ci interaggiamo ancora una canzone infatti mio fratello Gianni ha scritto questo brano che si chiama Il Coro di Papà e ora l'ho fatto insieme a un grande artista non so se lo conosci il tuo, io un grande si chiama Rocco Citano una persona ho scelto lui perchè è la storia della musica napoletana mi sono passato a quella persona lì e la canzone porta per il titolo Il Coro di Papà quindi ascoltate bene tutte queste canzioni se vi piace, fate un applauso a tutti stasera che sto uscendo e chiede la stella proviamo per me anche voi sei sempre ti sto portando e stasera un'altra questa ragazza se io questa canzone sto dicendo sti parola e parola che non dà già mai sapo griglia trovi bene i figli amici vi do un vento di mano da schmooza un applauso che ti sto portando e capisco e ora lì ha proprio io un attore io lì ho tutta lì vittorio la scarca la scarca e la scarca ha comunque io non ci sono il giorno la fa il mondo è il mondo è la prima madre è un giorno 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 si è un giorno è un giorno Non da distanza da l'ordine, ma c'è un brazo Adormi, a me è un pello, un sorriso Se a sposa ciò che resta a casa, un'ora canto adai a casa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti